Benvenuti, ben ritrovati, chiudiamo la stagione prima della pausa estiva in maniera istituzionale ho in studio il primo cittadino di Trapani, il sindaco Giacomo Tranchida. Ben ritrovato sindaco. Grazie, buonasera e buon sole. Buon sole, infatti sei un po' bronzato. Sì, ho avuto la possibilità di fare un sabato e una domenica e poi il sole, insomma, come le male parole io lo prendo tutto subito. E allora, ne abbiamo tanta carne da mettere sulla griglia. Partirei dal bellissimo progetto, io già mi sono esposto, sindaco, se tu segui il nostro telegiornale, con il tempo che ti ritrovi, ho detto si farà, ci sarà questa rivoluzione, evoluzione della città di Trapani per quanto riguarda il waterfront, non fosse altro che gestito dall'autorità di sistema marittima della Sicilia occidentale. Un progetto assolutamente innovativo come merita davvero la città di Trapani. Ci siamo, a fine anno iniziamo proprio con la trafita burocratica. No, abbiamo già iniziato per la verità. Io quando mi sono incontrato con Pascolino Monti nell'estate del 2018, appena letto, gli ho chiesto due cose. Uno, l'escavazione dei fondali che da sempre questa città è il porto, il porto commerciale, la cantieristica, ma anche la destinazione turistica e cruceristica aspettano. Due, capire se c'erano misure di finanziamento che potevano aiutarci a riqualificare un po' tutto il fronte mare. Accanto a questo ho chiesto, fate delle progettazioni che gentilmente mi trasferiscano merci e mezzi a Ronciglio e ci siano solo passeggeri invece su via Miraglio Staiti e via la regina Elena. Questo per snellire il traffico che in alcune ore di punta diventa assolutamente caotico. Devo dire che Monti ha mantenuto, nonostante i no, compreso quello del sindaco di San Vito, compreso quello del WF e compreso quello di qualcun altro, ha mantenuto tutti gli impegni, abbiamo fatto squadra, stiamo facendo sistema. L'11 di agosto si aprono le buste per l'appalto che individuerà la ditta, le ditte che inizieranno a fare l'escalazione dei fondali, con la procedura spedita urgente del PNR, Monti sta verificando se candidare entro settembre oppure in un stadio progettuale avanzato entro dicembre e anche la riqualificazione del fronte porto. Dunque sono opere certe e sicure che la città aspettava, nonostante tanti no, da decenni ci siamo. Beh, intanto abbiamo visto scorrere e continuiamo a vederle le immagini appunto del rendering della progettazione. Io ho fatto una battuta in conferenza stampa, ho detto quando cambiamo il nome alla città, in realtà non va a cambiare il nome, è questa la Trapani che ci aspettavamo. La battuta è magari perché capisco che c'erano anche dei manufatti che i progettisti hanno sviluppato. No, no, semplicemente perché è qualcosa di bellissimo che mi ricorda Capitale della riga anche di Barcellona, hanno chiarito che verranno ad essere utilizzate anche le nostre ceramiche. Trapani era il porto commerciale di Edice, dunque c'è anche una identità culturale, storica, se volete anche architettonica che va mantenuta e tutelata. Cambia il volto della città, cambiano i servizi della città e Trapani ritornerà ad essere nel cuore del Mediterraneo, e non lo dico io, è la condizione geopolitica della città del Mediterraneo, il porto del Mediterraneo. Questo vale per il commercio, vale per gli scambi, vale per l'arrivo e la partenza di persone, vale per un nuovo settore che è quello legato all'economia della croceristica turistica. Aggiungo, abbiamo già pronto il progetto per i percorsi culturali integrati, abbiamo intenzione di coinvolgere la diocesi, il museo Pepoli, fare un ragionamento anche con la città d'arte, con i siti archeologici in provincia di Trapani e dunque offriremo anche a visitatori, cultori che scelgono la croceristica per arrivare a Trapani la possibilità di godere la loro destinazione. Aggiungo, tentando anche di trovare in testa una sorta di lobby istituzionale con le compagnie di navigazione le più grandi al mondo, perché di ritorno a loro pubblicizzino comunque la destinazione Trapani, croceristica e nonno, visto che le navi da crociere sono presenti in tutte le parti del mondo. Soffermiamoci su questa parte, quella del lazaretto, una rivoluzione totale dal balcone che ci consente di guardare il panorama, al parcheggio, adesso spunterà l'immagine dove si vede il canale, eccolo qua. Fermati, ferma, metti, ferma a regia, ferma questa immagine. Beh, è qualcosa di davvero di sensazione. Facciamo un passo indietro. La prima immagine è quella che ha fatto vedere Porto Peschereccio. Un altro degli impegni che Monti sta mantenendo con la mia amministrazione è quella della tutela del mondo della pesca. Oggi abbiamo purtroppo EME, anche per crisi più complessive, meno pescatori, peraltro il caro petrolio, la regione che non riuscita a dare il sostegno che doveva, insomma, rispetto all'inaspiramento dei prezzi, nonostante l'impegno che aveva assunto questo governo della regione. Intanto noi vogliamo tutelare il comparto pesca trapanese, perché significa identità e cultura, se no rischieresti di essere un porto qualunque bellissimo nel Mediterraneo. Invece qui offri anche una tua identità, una tua storia, anche dal punto di vista della dimensione culturale. Ecco perché abbiamo speso un po' di soldi nei mesi andati per riqualificare il mercato del pesce al chiuso e dare dignità agli operatori e prodotto fresco e certificato e in condizioni igieniche necessarie ed utili ai trapanesi. Sì, c'è questa passeggiata sul mare. Se ci fate caso, la passeggiata guarda le egadi. Sì, perché sarà possibile raccontare anche attraverso alcune opere d'arte. Noi pensiamo ad alcuni artigiani trapanesi, anche di custonaci, che con la pietra possano scolpire delle opere che magari con il QR code, insomma ci rimandano a quella che è la battaglia delle egadi. Il turista e visitatore leggerà anche questo racconto, così come leggerà il racconto triste purtroppo dei tanti morti trapanesi, non solo che abbiamo avuto nelle disgrazie del mare. C'è un'apertura del mare. Trapani era una sorta di accipelago. Bene hanno fatto i tecnici a voler ridisegnare a ricreare questa condizione che in sé è molto bella, non solo diciamo il recupero delle acque, eccetera, ma anche la possibilità che siano dei luoghi bellissimi da visitarsi. Il futuro ha un sapore antico. Domanda che non è polemica, ma è così, una sottolineatura. Sempre in questa, me la rimette l'immagine della zona dell'Azzaretto Colombaia. Lì si vedrà tra un pochino, adesso la regia farà scorrere. Nella parte bassa delle immagini vedete questa bellissima piazza dove ci sarà appunto un agorà, insomma, eccolo, vedete, no? Beh, lì, Sindaco, certo non ci potremmo mettere che accadessi in mezzo. Ma io credo che noi utilizzeremo in futuro anche questa piazza per fare degli eventi. Lo scenario che abbiamo alle spalle è fantastico, bellissimo. È lo scenario che va verso il tramonto, che va verso il mare, che va verso l'Egadi. Dunque quello diventerà una sorta consentitemi, di teatro naturale. Ecco, c'è un input in questa direzione nei confronti professionisti che ben cogliendo i luoghi, peraltro tra questi c'è un trapanese, dunque ne sa molto più di me, io, come dire, abbasso il capo. E dunque da questo punto di vista ci sarà uno scenario fantastico. È ovvio che bisognerà qualificare anche l'offerta dei servizi. Dico una cosa, qualcuno che vende dei cappelli per adesso in via Ammiraglio Staiti, cappelli di paglia per turisti, eccetera. O qualcuno che durante le saghere, o quantomeno le feste paesane, insomma, questi giorni ci sarà anche Sant'Alberto, il padrono della città, poi la Madonna, la copatrona della città. Ma che ci sia anche una chieria, insomma, qualcuno che abbia un po' dei semini, eccetera. Alla fine a meno scandalizza. Però è ovvio che tutto questo non deve diventare il luogo di destinazione. Dunque può essere folklore, può essere tradizione, nella maniera più salute, gente che si vuole buscare pane e non rubano. Certo. E dunque va aiutata e supportata da un punto di vista. Dall'altro è ovvio che bisogna qualificare anche dal punto di vista della bellezza e delle aziende. Peraltro aggiungo, quando si parlava della riqualificazione del mercato del pesce all'esterno, eccetera, nel nuovo progetto, impropriamente si dice aria mercatale. Perché sarà una buscerì, diciamo, di nuova generazione. A me non scandalizzerebbe che lì ci sia anche uno spazio museale, non scandalizzerebbe che ci siano anche delle firme importanti e soprattutto che ci siano anche prodotti tipici di nicchia, diciamo, del trapanese. Così come accadrà con la vetrina dell'eccellenza che noi realizzeremo, spero, a cavallo dell'anno, con un social housing all'ex piazza mercato del pesce. Va bene. Ti interrompo perché dobbiamo, non perché ti voglio togliere la parola, perché dobbiamo affrontare diversi altri argomenti di maniopro e nell'ambito dell'area portuale. So che l'hai letto, abbiamo pubblicato come giornale, locale di uso, che dirigo, quattro pagine di una indagine archeologica. Io ho ricevuto un invito da parte dell'Ordine Architetti. C'è un gruppo di studiatori. Devo spiegarlo a chi ci segue, magari non lo sanno. C'è una ricerca da parte di un gruppo, scusatemi, di archeologi, trapanese e non solo, che avrebbe individuato proprio nell'area del porto, fuori dalle acque vicine alla città, un'area sommessa, un'altra parte sommessa della città. Beh, se fosse vero, e secondo me è vero, così dicono anche altri studiosi, lì ci sarebbe davvero da lavorare per valorizzare anche da questo punto di vista la città di Travani. Allora, io ho ricevuto l'invito dell'Ordine degli Architetti. C'è un gruppo di studiosi, archeologi, capitanati da voltaggio, gente seria, gente preparata. Sicuramente hanno più di un elemento di concretezza nelle mani. Bisogna andare a verificare però quello che c'è. Poi quella riunione so che un po' è saltata, perché il nuovo sovrintendente del mare non ha potuto partecipare. Io ho delegato anche il consulente Safina, che segue anche con attenzione come trapanese, questa vicenda, pur non essendo un assessore, più assessore, perché è candidato alle elezioni regionali, si è dovuto dimettere. Peraltro posso dire che sosterrò Dario Safina a spada tratta da giovani trapanese. Vabbè, ok. Io sono per sostenere questa iniziativa. Ho fatto una battuta al Presidente Monti, il quale mi ha detto che lui è disponibile, nel rispetto delle procedure e delle regole, a fare eventualmente interventi od opere, per esempio, di compensazione nei confronti della riserva del VOF, che si era opposta tra gli altri all'escavazione dei fondali. Cioè, noi abbiamo degli interlocutori, oppure questa amministrazione comunale, che tutti dicono litiga con tutti, no, forse questa amministrazione comunale batte, scusate la volgarità, i bugni sul tavolo quando pretende che venga rispettata questa città e gli interessi di questa città. E quando trova gente seria dall'altra parte, si aprono porte, autostrade. Monti ha detto, io sono disponibile a investire qualcosa per supportare eventuali verifiche a ricerche. Quando ero Sindaco di Erice, ebbi a sostenere, nel limite del possibile, so che la Sindaca sta continuando a farlo, dei ricercatori. E ho detto semplicemente una cosa, non solo perché noi abbiamo il dovere di recuperare pezzi di storia della comunità ericina, parlo di Erice, al tempo della sede della città, diciamo, sul monte, sulla retta, perché se trovassimo, lo dico con cinismo, spregiudicato amministratore pubblico, una sola, un'altra moneta con la Venere di Cina, voi sapete le code di turisti e di visitatori dal mondo che arriverebbero? Benissimo, se noi riuscissimo a individuare, a trovare, a rinvenire reperti di una certa qualificazione anche storica, culturale, eccetera, addicchieremmo l'offerta culturale della città di Trapani. Dunque, se mi consentite, dietro c'è anche un conflitto di interessi, in senso lato, da pubblico amministratore che vuole sostenere questo tipo di azioni. Poi però, per esempio, da un altro punto di vista, questa amministrazione con l'autorità portuale ed altri enti sta provando a rendere più fruibile, più bella, più intelligente anche in ottica futura l'area della riserva delle Saline, dove vanno ad accoppiarsi i fenicotteri rosa, all'espada del porto di Trapani. È stata convocata una riunione giorni scorsi perché c'è un bel progetto e, guarda caso, il WWF non si è presentato. Noi possiamo ancora continuare, però, sì. Io ho proposto intanto un incontro preliminare alla Piacentino come referente del WWF, lei non ha gradito le modalità, la tempistica, eccetera. Io penso che nel rapporto anche dei ruoli istituzionali, anche con un messaggio, se si può intendere, dieci giorni prima. Monti è venuto, ed è presidente senza offesa rispetto al responsabile del WWF locale, di un'autorità di sistema che è sostanzialmente metà della Sicilia. È venuto il delegato del commissario della ZES, che senza offesa è il commissario in Sicilia per le ZES, gestirà milioni e milioni di euro, compreso l'opera che si sta concertando di realizzare perché sullo scorrimento veloce, uscendo dal svincolo autostradale di Milo, ci sia un collegamento diretto invece di andare fino in via Libica per andare a Ronciglio. Dunque il traffico merci e mezzi che aumenterà in prospettiva grazie all'escavazione dei fondali perché Trapani è zona ZES, zona economica speciale, c'è bisogno di fare un percorso dedicato solo ai mezzi pesanti, in modo tale che i mezzi civili, quelli dei cittadini, la macchinetta che ho io, non stiano a morire dietro la promiscuità di mezzi, gas di scarico, eccetera. Ora, questi sono intervenuti e hanno detto che noi siamo disponibilissimi a lavorare assieme all'amministrazione comunale di Trapani e al WWF per tutelare ancora più la riserva delle saline e per garantire anche opere che possano attutire i rumori. Mi è stato spiegato da un vostro collega molto bravo, Mario Torrente, che per esempio i fenicotteri dalle nostre parti, lo diceva anche la Piacentino e il WWF, non edificano più a causa del rumore. Allora, noi dobbiamo consentire ai fenicotteri rosa di ritornare a edificare a Trapani, perché è bello, perché è un dono della natura, è un miracolo della natura, perché crescerebbe, lo dico nuovamente, con il cinismo di amministratore e sindaco di Trapani, l'appillo della destinazione turistica, ambientale e naturalistica della città di Trapani. Ho trovato quelli che ci mettono i soldi, ho trovato chi ci mette soldi, l'autorità di sistema portuale mi ha detto che sono disponibile a fare delle opere di organizzazione, gli ha detto guarda, possiamo opulire anche qualche canale, mi piacerebbe che qualche canale della riserva possa essere navigabile, non a motore ovviamente, e nei periodi in cui non c'è come dire la natificazione degli uccelli, perché se no io non posso spaventarli, anzi, però vi rendete conto del patrimonio che abbiamo, allora il VF secondo me, perché Dio non mi permetto neanche a casa mia comando, però mi piace guardare negli occhi le persone e mi piace soprattutto trovare soluzioni, il giochino dello stare a fare la guardia all'altri con me non funziona, dunque molto rispetto per la Piacentino, per chi c'era prima, per il VF, però o ci si è dato un tavolo, si ragiona, nel rispetto delle leggi, nel rispetto delle leggi della natura, per carità di Dio, ma le cose che si possono fare vanno fatte, non che io imprenditori che scappano perché ogni volta che si propone un'idea, un progetto, c'è un malloppo di carte e di esposti, dopo di ciò lo dico chiaro, io se sbaglio pago, sono un cittadino come tanti anni, le scale del Tribunale le ho salite e scese diverse volte, credo che fino ad ora di avere assolutamente dopo 30 anni che faccio il Sindaco una ferina penale pulita, non mi faccio intimidire da chi fa gli esposti in procura, anche perché il primo esposto, il secondo esposto e il terzo esposto, poi finisce che magari in procura capiscono che c'è qualcuno che sostanzialmente ci sta speculando su queste storie e credo che si possa ritorcere, non è un avviso a nessuno, dico semplicemente che in questa città non è facile creare posti di lavoro, non è facile creare sviluppo e noi nonostante tanti no, stiamo andando avanti, con una testa se volete da Montisi stiamo andando avanti rispettando le regole, però è arrivato il tempo e ringrazio la signora prefetto che so che per fine agosto convocherà un tavolo con tutti gli attori compresi VUF di guardarci negli occhi e dire cosa si può fare, cosa si può fare mitigando eventualmente opere, perché io sono il primo a volere, lo dico sinceramente, tutelare la riserva dei, perché è un valore aggiunto, aggiungo, per quello che può valere, io in questa disgrazia del mio impegno, ho fatto tanti danni, in politica, devo riconoscere una maternità, Maria Gucciona, io mi sono impegnato, ho 18-19 anni in politica, oltre le cose di casa mia, perché ho iniziato a fare anch'io la battaglia, per un no allora, contro le piattaforme terrorifere nelle legate, io sono figlio di quella cultura e da sindaco di Trapani ho detto assieme a tutti i sindaci della provincia, no all'insediamento dei residui, dei rifiuti radioattivi tra Calatafimi e Fulgatore, nonostante alcune associazioni ambientaliste si riempiono la bocca, da sindaco di Trapani insieme agli altri ho detto no al primo, perché adesso l'hanno rivisitato, progetto Renexia per l'offshore con le paleoliche che mi ammazzava gli uccelli in andata e ritorno, ecco, io sono questo, la Piacentino questo lo sa e il WWF lo sa, dunque, troviamo la soluzione, oppure andiamo avanti, troviamo la soluzione. Io sono sì per unire la città di Trapani, sono sì per il sottopasso. Vedo che lì hai un giornale dei giorni scorsi, sempre il mio, dove c'è proprio l'apertura con no al sottopasso, che non era ovviamente una posizione del giornale, ma un articolo di cronaca per... Per la verità c'è scritto no al sottopasso, sia verde pubblico, io devo ringraziare... Lo dicono loro, sì. Lo dicono. Devo ringraziare la Lombardo dell'Associazione di Trine, un'associazione che anche in maniera critica in questi anni ci ha dato una grossa mano d'aiuto assieme a tutti gli attivisti che non sono però degli estremisti, dei fondamentalisti da questo punto di vista, abbiamo salvato le ritrine, abbiamo progettato delle opere a verde, aspettiamo dei finanziamenti da qui a fine agosto, poi magari ne parliamo meglio per far diventare più verde e più bella questa città. Ieri con la Lombardo abbiamo incontrato per esempio la ditta che farà le opere per il sottopasso, credo che iniziano a novembre-dicembre, e anche tutti i vertici di RFI, dunque di ferrovie dello Stato. Gli abbiamo strappato un impegno formale che è quello di moltiplicare per tre la piantumazione di piante che sceglieremo assieme ad Eritros, sono piante del territorio, rispetto ad alcuni pini marittimi che necessariamente debbano togliere, qualcuno l'ha tolta, siamo che a rubo, altri ne debbano togliere, sono credo una decina che ne dovranno togliere e loro andranno a un potenziale rinvestimento di 36 piante, dunque ogni pianta tolta, ogni albero tolto, viene moltiplicato per tre l'impegno di ferrovie dello Stato. Dunque ringrazio l'associazione Ertinos e RFI e dunque la Lombardo. Nonostante il no, non andiamo avanti, questa è la città del no, quando fai una cosa ti dicono no, escalazione del fondale, no, non stai a fare, noi la stiamo facendo. Tornare a Tipa, siccome ce l'ha, no, non si deve fare, io mi sono impuntato, abbiamo rimodificato, il progetto si farà il parco di Tornare a Tipa, unire la città, no, perché dobbiamo spostare il mondo alla stazione fino a Xitta, quello e quell'altro, quando in tutte le città del mondo si sta cercando nelle città europee di far arrivare con i mezzi pubblici il turista al centro storico, no, qui invece siamo ancora all'età della pietra e dobbiamo fare a Xitta, quello e quell'altro, perché qualche professionista un tempo, qualche amministratore un tempo ha dato qualche incarico professionale, con me non funziona così, gli incarichi professionali, gli studi si danno per realizzare le opere, noi riusciremo a riunificare la città di Trapani con il sottopasso, il sottopasso va in sicurezza, non è vero che è pericoloso, nella maniera più assoluta e peraltro chi fa queste affermazioni essendo un tecnico è un delinquente, perché peraltro non ci sarà una goccia d'acqua in più nel sottopasso rispetto alle bombe d'acqua che arrivano in via Marsala, da questo punto di vista, perché ci saranno le paratie che impediranno che l'acqua entri nel sottopasso, ci sarà solo quella del volume diciamo sovrastante l'opera, con due pompe continue che la smaltiranno, saranno più bravi di quello che riusciamo a fare noi quando arrivano le bombe d'acqua in via Marsala che ci vuole a volte un'ora, un'ora e mezza. Non ci pigliamo in giro da questo punto di vista, poi mi ha detto una cosa ieri RFI però, e ora capisco perché tanta animosità da parte di qualche proprietario di qualche vecchia abitazione vicino a via Marsala e via Vespri, che lì una portazione a portonò hanno realizzato un sacco di opere abusive sull'area di sedime delle ferrovie dello Stato. Sì, hanno realizzato delle opere abusive a casa d'altri, a casa del demanio, a casa dello Stato. Ora capisco perché c'è tanta animosità da parte di alcuni, perché io sono e continuerò a tutelarli nel momento in cui chiedono garanzie che le opere che si faranno non alterino la staticità delle loro abitazioni, abbiamo trovato un compromesso e un costo aggiuntivo per RFI per fare la verifica sia, io non sono un tecnico e dunque chiedo scusa a chi ci ascolta e mi attimo male, sia per le oscillazioni in orizzontale, in verticale, insomma questa movimentazione che possono avere eccetera, e dunque ci sarà questa ulteriore azione di costante monitoraggio eccetera. Per adesso stanno facendo i saggi, stanno verificando sia la tenuta delle acque, la falda non subirà diciamo alcuna ripercussione eccetera. E dunque sono per tutelarli queste persone, però non posso tutelare chi fa opere abusive. Da sindaco dell'accentità di Trapani questo io non posso farlo, da ufficiale di governo non posso farlo. E dunque se qualcuno ce l'ha in modo particolare con il sottoscritto, con la mia amministrazione, con il consiglio comunale che finalmente ha deciso di risolvere un problema, che Trapani si trascina da 50 anni, non può pensare che per difendere i suoi interessi privati, per quelli che ha fatto tra abusive e sporchi, paghi una città. I Trapanesi e non solo i Trapanesi avranno nuovamente la città, sia unita. Noi ricuciremo la città. Quanti cittadini Trapanesi, quante migliaia di persone in questi anni hanno perso tempo, salute e quant'altro, stando bloccati dietro i passaggi a livelli, sotto il sole, sotto la pioggia, il pericolo a casa, la chiamata urgente eccetera. Va bene, va bene, adanti, dai che abbiamo dieci minuti che dobbiamo affrontare altri due argomenti. Ai primi di settembre incontreremo i commercianti. Pino quanto abbiamo? Dieci minuti? Ai primi di settembre incontreremo i commercianti di via Marsala per spiegare loro che salteranno complessivamente solo sei posti auto e per spiegare loro che le opere e gli interventi non nuoceranno neanche nella fase cantieristica alle loro attività. Faremo un incontro con i vertici RFI e andremo in via Marsala a spiegare a fare un incontro ai commercianti. Dunque, tutto questo terrorismo che qualcuno, diciamo, ha voluto artatamente alimentare, gli si ritorcerà contro. Va bene, posso fare una battuta senza che torrabbi sindaco? No, io non mi arrabbi. Sono uno che lavora dalla mattina alla sera, cercando di affrontare assieme a tanti altri. Ah, va, fammi fare la battuta che poi è una domanda che ti do la stura per spiegare. Dico, meno male che i lavori li fa RFI, meno male che di là i lavori sono gestiti dall'autorità portuale, perché se no finiamo a via Fardella. No, via Fardella che molti erano per il no. Adesso i lavori che sono stati fatti in via Fardella ce li chiedono in via Virgilio. I cappuccinelli sono arrivate per edizione a mai finire che ci chiedono di mettere del rallentatore ovunque. Allora, noi ci dobbiamo intendere. Non è perché a qualche trapanese che gli viene scomodo il fatto di rallentare in via Fardella. Se vuole correre, vada in qualche autodromo. Poi può contestare questo sindaco perché non è stato capace, nelle centinaia e centinaia di milioni di finanziamento che sono arrivati e che arriveranno, di pensargli di fare pure l'autodromo, perché non farà il luogo dove questo cittadino trapanese che ha una macchina tutta, una moto fighetta può andare a correre. Io, se andate in via Fardella, tutti rallentano. E ho garantito la salute e la sicurezza delle persone, soprattutto anche delle persone che hanno qualche problema in più, come possono essere i ciechi e gli ipovedenti. La certificazione viene dai ciechi e dagli ipovedenti. Abbiamo scoperto che le strisce gialle e rosse addirittura le ha fatte anche la provincia, sulla provinciale che porta San Vito. Questa Stefania qualcuno gliel'aveva detto però. Ci stanno anche in quel di Roma. Ci stanno ovunque le strisce gialle e rosse, nonostante quello che dica qualche addetto stampa di qualche ministro intelligente. A me è quello che dicono gli addetti stampa e non me ne può fregare di meno. A me interessa quello che dicono. Le leggi e il codice della strada. Quando la mia amica Stefania ritornerà, ormai... era della Petix. Ormai sono così in confidenza, sono visto... Non lo eravamo anche da prima. Quando ritornerà qui e noi avremo la certificazione, il completamento dei lavori, eccetera, perché si aspetta adesso la collocazione degli affari, non so tecnicamente come si chiamano per la lettura in braille, eccetera, e anche... Sensori. Sì, va bene, insomma, ok. Verranno collocate proprio per completare e certificare il progetto. Ecco, noi dimostreremo che questa è un'opera che era utile alla città, utile a chi sta peggio e che indirettamente ci ha dato una mano d'aiuto con questi, diciamo, sisce pedonari sopra levati, ci ha dato una mano d'aiuto anche per rallentare e contenere un pericolo della fobia, della pazzia, della corsa. Torno a ripetere, ce le chiedono adesso in via Virgilio le persone, ce l'hanno chiesto in via dell'Eorea della Villa Rosina, ce le chiedono a quartiere dei Capuccinelli dove ci sono dei pazzi sconsiderati che corrono a destra e a manca. E allora? Delle due l'una, insomma, va bene. Chiudiamo. Anche lì c'erano un sacco di no, tutti no, tutti no. Tu quando cerchi di fare una cosa in questa città per renderla più bella, più moderna, più funzionale, più europea... No, erano facciamoli meglio, facciamoli bene, con criterio. No, chi ha detto no, obiettivamente non ha senso il lavoro, solo solo per dare gli ipovedenti, obiettivamente nulla da dire. Poi la realizzazione, insomma, qualcuno magari preferiva fosse stata fatta meglio, ma non sono un tecnico. Dobbiamo chiudere che abbiamo pochissimi minuti, mesi di scemi si vota? Hai visto che finalmente si vota per questo nuovo comune? Voti Tallarita? Io mi auguro di votare una donna o un uomo che è su misi di scemi da tempo, dimostra impegno, amore. Ci sono tanti possibili candidati, ci può essere Rocco Greco, ci può essere Massimo Toscano, ci può essere Giuseppe Peralta, ci può essere Mimmo Marino, ci può essere lo stesso consigliere Ferrante. Mi piacerebbe invitare al voto persone... Quindi hai menzionato tutti i consiglieri comunali però in carica, nessuno dell'associazione misi di scemi. Mi piacerebbe invitare al voto persone che per davvero si sono prese carico e responsabilità anche in questi ultimi anni, in questa stagione amministrativa di misi di scemi, di quelle frazioni, giorno dopo giorno. Mi piacerebbe votare persone che abbiano la consapevolezza, ben affatto Dario Safina, a fare uno studio specifico. Io rispetto la volontà popolare ma il comune dei misi di scemi nascerà con un buco di 4 milioni di euro. Andranno sotto per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, per quanto riguarda l'acqua, per quanto riguarda i servizi di collegamento e di trasporto. E Dario Safina, pur se da candidato gli auguro di farcela, a deputato regionale, sta lavorando per preparare un disegno di legge dove ci sia una dotazione per alcuni anni di almeno 4 milioni di euro l'anno per il Comune dei misi di scemi, perché se no a misi di scemi scatteranno e aumenteranno tasse a mai finire. Perché quando si presentano idee a un progetto di sviluppo di una città rispetto alla volontà popolare, bisogna avere anche un piano economico a supporto, bisogna anche capire dal punto di vista finanziario come camperà quella comunità. Se no poi di domani mattina sei costretto ad andare a aumentare le tasse. Il commissario Burgio ha fatto delle scelte a risparmio per evitare in questi mesi di inasprire le tasse su misi di scemi. I servizi però un po' sono più carenti, ci siamo accorti da qualche tempo su misi di scemi. Dunque delle due l'una. Dunque sono per sostenere una candidata, un candidato sindaco che per davvero non voglia mettersi in bocca la parola misi di scemi, ma voglia per davvero servire come ha fatto e per la sua storia anche personale, sportiva, politica, sociale, eccetera, questa comunità. E dunque non voterò ovviamente. Appena lanciato, ma tanto lo sapevamo Rocco Greco, perché la specifica sulla storia sportiva personale sta parlando di Rocco Greco, ma tanto lo sapevamo. No, valuteranno i cittadini dei misi di scemi. Va bene, regionali, si è dimesso, ieri proprio doppia notizia, insomma si vota a misi di scemi, di sera arriva, scusatemi, la notizia delle dimissioni da Presidente della Regione Siciliana di Nello Musumeci. Che gran casino, se vuol dire casino? Mi dispiace che va via in un momento drammatico. Lui ha giustificato che va via per far risparmiare i cittadini. Io so solo che ieri ho tenuto una conferenza dei sindaci e ho i pronti soccorso di questa provincia tutti in tilt, in allarme. Parlo del pronto soccorso, del funzionamento del pronto soccorso, dove ci sono medici, infermieri. Pochissimi peraltro vengono presi da altri reparti e sbattuti lì e dove si affrontano le emergenze della salute delle persone, oltre poi alla cura e così via. Mi dispiace che va via lasciando il sistema sanitario in Sicilia e non solo in provincia di Trapani con l'acqua alla gola nei pronto soccorso. In una condizione di emergenza, nonostante l'impegno, ieri abbiamo sentito, del nuovo commissario, ingegnere Sfera, che sta cercando di rapportare tra infermieri, recuperando anche dei medici e sopprimendo provvisoriamente anche delle medicine, dei servizi di guardia medica per recuperare dei medici, eccetera. Mi dispiace che questo governo va via nel momento in cui bisogna anche pianificare ulteriori risorse che ci stanno nelle PNNR e che hanno un interesse strategico per la Sicilia. Mi dispiace perché sostanzialmente si lascia un po' di criticità aperte, quello dei rifiuti per esempio. Se non fosse stata la discarica del comune di Trapani, la Trapani Servizi, noi quest'estate l'avremmo avuta, l'avremmo superata, come dire, in termini altro che eventi. L'eventi sarebbero state le discariche a destra e manca, al di là di queste quattro che insistono su Trapani e che incivili alcuni li abbiamo imbeccati e continuano a fare. Questi non sono degni di essere chiamati trapanesi. Chi sporca la città non è degno di essere chiamato trapanesi. Io ringrazio ATM per questa campagna che sta facendo di sensibilizzazione, dove invita i cittadini a denunciare, a chiamare i vigili urbani, a denunciare... Tanto poi non ci sono i vigili urbani, poi ne parliamo. Gli incivili, le segnalazioni, ci sono gli ausiliari. Detto, verso i quali esprimo solidarietà... Sì, ma per esempio sugli incidenti non ci vanno gli ausiliari. L'altro io, scusami sindaco, ne parliamo, so che lo sai, probabilmente se non lo sai te lo dico io, c'è stato un incidente gravissimo a Fulgatore, alle 13 circa, fino alle 16.30 a nessuno è andato a fare le verifiche. La polizia municipale, perché non c'era nessuno di servizio, i carabinieri che riparlavano alla polizia, la polizia che riparlava alla polizia locale, ma se vuoi andare avanti così, scusami se tocco pure questo argomento. Il sistema di sicurezza in città funziona con pari attività di intervento da parte dei vigili urbani, dei carabinieri e della polizia. Sì, ma a prescindere da questo non c'è polizia locale di servizio normalmente in questo periodo è il pomeriggio. Io nel fatto specifico non so... No, no, infatti so generalizzandoli che il pomeriggio quasi non abbiamo vigili urbani. Nel fatto specifico so solo che nessuno può dire no è competenza dei vigili, no è competenza dei carabinieri, no è competenza... è competenza intanto tua che sei chiamato e allertato, dopo di ciò le interforze decidono se devo andare questo, quello o quell'altro. Torno a ripetere, mi dispiace che accada questo in questo momento, con una Sicilia che andrà verso il turismo dei rifiuti. I rifiuti della Sicilia andranno non si sa dove, per delle politiche sbagliate di questo governo regionale, anche se apprezzo il lavoro che ha fatto in parte sicuramente Falcone, ha finanziato l'SP21, è stata una persona di parola, così come l'assessore Turano per le ZES, lo stesso Messina, su alcuni momenti di promozione è stato un amministratore attento, a prescindere dalle logiche di appartenenza. Dunque che Musume ci vada mia, mi dispiace sotto il profilo dell'emergenza sanitaria e di quella dei rifiuti. Per il resto, onestamente, finalmente è una liberazione. Mi auguro che con la candidatura della Chinnici si possa dare una risposta nuova e diversa in Sicilia e mi auguro che Dario Stafina al meglio possa rappresentare gli interessi della città di Trapani e del territorio trapanese. Volevi dire che lo appoggi? Dario Stafina è il candidato che io appoggerò, che chiedo ai cittadini, a quanti hanno fiducia in me, a quanti lo conoscono, a quanti conoscono anche il disinteresse diretto, ma anche la serietà con la quale lavoro per le nostre città. Invito le persone a sostenere Dario Stafina, non tanto candidato del PD, ma come candidato del territorio, del partito del territorio a servizio di questa comunità. È stata una persona che mi ha dato una grande mano d'aiuto e continua a darmela al comune di Trapani. Non ha guardato né orari né tempi né sui interessi professionista. Un po' condizionato dallo sport, va bene, questo qua un po' il conflitto di interessi glielo devo dare. Va bene, sindaco. Dunque è una figura secondo me che al meglio rappresenterà gli interessi di questa città. Il tempo a nostra disposizione è finita, adesso dedico la seconda parte a un deputato regionale, parliamo appunto della crisi e delle elezioni alla regione. Ti prendi qualche giorno di riposo? Sì, io festività del Santo Patrono, poi magari ho bisogno di staccare qualche giorno, mi do il cambio con mio fratello che viene da fuori, anche perché abbiamo dei parenti un po' tra i miei mogli e i miei parenti anziani, questo sì. Una raccomandazione, noi vogliamo vivere una stagione nuova, diversa eccetera, però abbiamo scoperto che con il Covid in un certo quel modo dobbiamo conviverci. Dunque cerchiamo di essere prudenti, laddove ci sono luoghi e momenti di, anch'io evito a volte, per tutela mia ma soprattutto per tutela degli altri, evitiamo le imprudenze gentilmente. Grazie mille, sindaco, arrivederci, buon lavoro. Voi non cambiate canale perché adesso parliamo di elezioni regionali in Sicilia e non solo, anche di mesi di scena.